Amone, ehi madonna, come ti stava lavando via? Ti stava proprio a Frascabù Ti stava proprio a Frascabù Ti stava a Frascabù, vedi? Tanti chilo, vedi? Ma una volta ne facciamo pure i bidei, ecco, amico Madonna, come fa via? Guarda Sto facendo la ripresa a Bruno, questa la faccio vedere quando non ci stai più, no? Qui stai a Bruno quando... Fai un vitellino Eh? Fai sempre un vitellino, guarda come viene Mone Scusa Bruno, giro da qua, va Guarda qui a me, guarda come sta bene Ah Stai pure a Emilio, ti hai visto Bruno come si è lavato via? Eh? Ti hai visto come si è lavato via? Eh? 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 A dove? A dove? Eh? No Ma si è fatta tutta la riuscita La si è fatta pure a te, eh Bruno Fai vedere Bruno Eh, come sta via, c'è madonna Scusa 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 Questa è la storia della fondana fredda Scusa 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 Come era quella, quella che diceva la tana Eh è la tana Scusa Ma io che mi stava rimettendo, stava rimettendo, la rimetta prima e non si gagne, la ricorda che lascio, ma perché se non si gagne, la rimetta che chiede, ma che succe non so? Che dice a lui? Come si vede questa bell'acqua che sgorga alle sorgenti? Sgorga alle sorgenti? Che c'è? Che c'è? Che l'altro va da lì? Che ne faccio l'uomo? Ma chi è ne faccio la buona? Se si arriva giù, sforza il corpo Fai un attore questa cosa brutta Ma se ti va a dire, se non trovi, vai giù, sforza il corpo Ma ti guarda l'ernia a buttare? Guarda qua! Guarda qua! Ma sta a fare la pipì? Ma lui sta a fare la pipì adesso Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua la lavata che bello, proviamo di quanto lavo la catena come si lava prima Si bello è rifrescato bene Si è rifrescato bene vorrei vedere questo che sto facendo ma non si vede? no te lo metto su internet o te lo faccio vedere ma te lo denunce? no vedi a fermare la liberatoria gli edemonesi se metti in coppa internet non vuoi che sto sotto metti a fermare la liberatoria e ti metti in coppa internet eh già lo siedi com'è? non lo siedi puri che ci metti a fermare il